Ciao bello spiegare ragazzi siamo qui in un nuovissimo video oggi con Pugmobile Ok voi vi chiedete cos'è Pugmobile? Pugmobile è un gioco uguale ai Fortnite diciamo andiamo solamente un po' con la grata ok andiamo a far subito un match che dalla grafica potete notare che è molto bello come gioco si prende appoggi poi io ve lo vorrei sapere perché gli altri si sono vestiti e io no vabbè la zambica ti va per tutto vale ok siamo in un arrivo ok io sono secondo quindi quindi i Pugmobile tutti in Gabbina sono 98 97 perché stanno tutti scendendo quindi sono lunghi io sembra normale ma ragazzi stiamo scendendo 70 km lo faccio così si può frena perché faccio così e frena ancora di più facciamo così almeno acceleriamo vorrei atterrare la base militare degli aerei vorrei andare lì però provo ad atterrarci ma non 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 che riuscirò ok mi sa che te la metto la strada o in mezzo ok la possibilità è vicina dire che la terriamo vicino vicino però prima di entrare in una casa mi prendo qualcosa tipo vestiti nelle case c'hanno qualcosa dove sono tutti scappati come non detto troviamo subito ok l'ho tra in atto è un energy drink sempre può servire ok prendiamo tutto ok non dobbiamo lasciare non dobbiamo lasciare nessuno non è un ringolo che atto lì Fremi a aðra. Fremi a presto? Fremi a presto! Oh, è касante! Sani! Fremi a presto? Fremi a presto! Giustat! Fremi a presto? Ero! Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aiuto, 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 cerco aiuto, qualcuno mi sta sparando, si entra di qua? Sì. A meno che rifugiamo, non so, troviamo un carro armato e ci andiamo, non so. E' pur sempre una base militare. Non so, non so. Non c'è una casetta, niente proprio. Aspetta, un jeep. Oh, è lì una persona. Mi sparano, aiuto. Cosa faccio? Scappo. Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? E' un misc? a 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 ragazzi siamo saliti voglio uscire da questa cupola lì c'è un aereo successo siamo morti devo uscire immediatamente a a aspetta aspetta su guarda 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 ne sta uscendo vero sto anche morendo anche morendo no no ragazzi sono morto sono morto ho fatto 45esimo ma sono morto ma sono morto come ho fatto a morire non lo so va bene lasciate un mi piace e un commento e ci vediamo al prossimo video vai a tutti ragazzi